Due mezze stagioni in bianco-verde, intervallate dalla parentesi a Benevento, 28 presenze e un gol per Serge Aristide Die. Oggi 41enne Livoriano è un'accademia per giovani calciatori e ha avviato un'attività che produce pannolini, oltre ad essere stato nominato ambasciatore per la pace nel mondo. Oggi ho un'accademia in Costa d'Avorio, sono un imprenditore, un'accademia, ho una fondazione che cura dei ragazzi, che prendono cura dei ragazzi, 300 ragazzi che vanno a mangiare, vanno a scuola, tutto questo. Ho pensato ai bambini, perché adesso nascono tanti bambini in Africa, e le bambini nascono, poi non hanno, non è che tutti hanno soldi per comprare i Pampes, la marca Pampes. Quindi ho fatto la mia, la mia, la mia, la mia marca, con il nome della mia figlia, un buon prezzo e mi è andata bene. Questo invece è il suo ricordo dell'esperienza erpina. Sono dispiaciuto, è dispiaciuto e la storia è finita male, perché come lo sai, come sappiamo tutti, di come sono partito, sono andato via ad Avellino, però Avellino è stata una squadra, una città che mi ha ridato, mi ha fatto rientrare nel giro del calcio, perché venevo da un anno senza giocare, e sono ripartito dall'Avellino, un tifo splendido, uno dei migliori tifo, perché mi ricordo quando noi stavamo primi in classifica, abbiamo giocato una partita importante contro Pescara a casa. Abbiamo fatto il ricordo del tifoso in tutta l'Italia, tranne Serie A, per una partita di Serie C, che hanno l'amore, che sono attaccati alla maia della città, e questo, Avellino per me è una piazza di alto livello. Qual è stato il compagno più forte con cui ha giocato di Avellino? Mi piaceva molto Cinelli, Molino, Molino è stato uno importantissimo, uno importantissimo per la salita in Serie B, con uno come giocatore con una tecnica pure Sazamara.